Nella silenzio spettrale dello stadio presse di Gela a gara, lo ricordiamo, giocata a porte chiuse per il provvedimento del giudice sportivo assunto dopo la partita persa dei giolesi sul campo della Leonzio, la formazione di Pietro Infantino e la Sarnese si dividono alla posta in palio con un pareggio per 1-1 acciuffato in zona Cesarini di Biancazzurri con Bonaffini che accontenta maggiormente la squadra del tecnico Gianluca Esposito, sicuramente meno i padroni di casa che forse pensavano di far di un sol boccone della squadra ospite. Sarnese che dal canto suo non può che essere soddisfatta e orgogliosa della gran gara messa in campo contro un Gela apparso sotto tono rispetto al match contro la sigla Leonzio della settimana scorsa. Gela sicuramente meno brillante e confuso atteso adesso dalla sfida sul campo della Turris si giocherà giovedì prossimo. La cronaca senza Fabio Campanaro squalificato con il capitano Alessandro Bonaffini reduce da qualche noia muscolare che parte dalla panchina così come Angelo Bruno, Infantino mette dentro il neorrivato Candiano mentre l'altro nuovo volto in casa Gela, Alexandro Noto, parte dalla panchina. Partenza a mille per la formazione di casa che colleziona al pronti via due interessanti calci d'angolo nei primi cinque minuti di gioco. Al decimo Montalbano sfrutta un rimpallo sulla conclusione del compagno di squadra Bonanno tirando a botta sicura ma il portiere napoletano è attento. Al ventiduesimo gran botta dalla distanza di Candiano ma ancora la volta l'estremo difensore ospite non si lascia sorprendere. Al venticinquesimo conclusione a giro di Montalbano ancora Sorrentino attento. Al ventinovesimo però arriva la doccia fredda per i padroni di casa che subiscono la rete del vantaggio degli ospiti. Guidelli si libera bene sulla fascia mettendo dentro un pallone delizioso per Fioria che mette dentro con facilità. Al trentasettesimo ancora un pericolo per il Gela con Guidelli che prova la botta ma Gambuzza si oppone in scivolata. Al trentottesimo ci prova Bonanno con una semirovesciata in aria palla alta di poco. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio inaspettato della Sarnese su un Gela voglioso ma poco preciso. Nella ripresa nessun cambio per entrambe le formazioni e stesso copione almeno nei primi dieci minuti di gioco. Gli ospiti sempre attenti e precisi rispetto ad un Gela arremmante ma impreciso. Infantino prova la carta Nassi al posto di Bonanno. Al quindicesimo occasione per il Gela con Montalbano che tenta la girata di testa sul cross di Candiano ma c'è il miracolo del portiere ospite. Sul successivo calcio d'angolo in mischia ci prova Brugaletta, palla che si infrange sul muro difensivo eretto dalla Sarnese. Al ventitresimo pallone con il contagiri di Evola per Nassi che per un non nulla non trova il guizzo vincente. Palo di Kosovan che di testa prende il legno al trentasettesimo sugli sviluppi del quinto corner della gara a favore dei biancazzurri. Al quarantaquattresimo Boraffini servito da Evola infilza il portiere sorrentino e mette la firma sul pareggio. Gli ultimi assalti si concludono con Kosovan che potrebbe raddoppiare ma che sciupa clamorosamente da due passi. Finisce 1-1. Giovedì prossimo ricordiamo che il Gela scenderà nuovamente in campo. I biancazzurri saranno di scena a Torre del Greco. I biancazzurri saranno di scena a Torre del Greco. Grazie. Grazie.